Fano sotterranea, un bel viaggio alla scoperta delle radici della città della fortuna, dal sottosuolo emergono sempre le testimonianze dell'epoca romana e gli affascinanti resti medievali. Investigare il passato attraverso il presente per restituire al luogo la sua identità ha sempre affascinato studiosi e storici ed in una città come Fano che come altre del centro Italia sotto la superficie calpestabile a un'altrettanto estesa dimensione come una città che si guarda allo specchio viene molto facile. Stamane nella culla del medioevo fanese la corte malatestiana alla presenza dell'assessore Marchegiani il centro studi Vitruviani in collaborazione con il Politecnico delle Marche ha finanziato in totale autonomia di spesa una radiografia del sottosuolo attraverso l'utilizzo del georadar per capire cosa ci sia sotto e se ciò che c'è sia di rilevanza storica tale da giustificare eventualmente poi uno scavo vero e proprio. Un esercizio di ricerca che il centro studi Vitruviano ha intrapreso da tempo ed in altri siti storici della città. La corte che poi è strettamente legata, la corte malatestiana è strettamente legata alla piazza. Noi già sappiamo che sotto questo livello di calpestio ci sono resti di domus che sono già state trovate, rilevate, georeferenziate e ora vediamo che cosa succede in questo spazio libero che a noi risulta essere sempre stato storicamente libero quindi questo depone a favore del mantenimento di preesistenze speriamo rilevanti da un punto di vista archeologico. Un'opportunità ghiotta questa per l'amministrazione comunale che di questo complesso vorrebbe farne il polo museale della città magari estendendosi a Palazzo De Cupis ma prima di far questo bisogna mappare gli edifici e poi passare alla fase progettuale vera e propria ma soprattutto sapere vita, morte e miracoli del luogo e dei suoi edifici e di ciò che si vede e non si vede vista anche la palesata disponibilità della sovrintendenza a stanziare eventualmente fondi per possibili scavi mirati. E vediamo cosa c'è nel sottosuolo perché questo sarebbe comunque obbligatorio non solo per la corte manatestiana anche per i limitrofi giardini leopardi e una strisciata sulla piazza che anche lei contiene un fascino perché è una piazza a caval di sotto della pavimentazione che siamo abituati a percorrere con archi e volte mai particolarmente indagati perché ci interesserebbe comprendere anche la natura di quelle sottostrutture se sono medievali o romane.